Benvenuti su Dilflower, quest'oggi abbiamo come ospite Emanuela Cedarmas, Senior Portfolio Manager ISG & Impact del gruppo Invescorp Tagess. Benvenuta Emanuela, grazie per essere la nostra ospite. Grazie a voi. Come prima domanda ti chiederei che cosa intende Invescorp Tagess per impatto sociale? Dunque, è importante questa domanda che mi fai perché impatto sociale è una definizione che non è ancora stata formulata in modo univoco, quindi bisogna intendersi a cosa si fa riferimento con questo tipo di investimenti. Noi di Invescorp Tagess abbiamo deciso di sposare la definizione di una delle più grandi organizzazioni di impatto sociale al mondo che è la Global Impact Investing Network, anche nota con la sigla GIN. La definizione è la seguente, per investimenti a impatto sociale si intendono quegli investimenti che hanno l'intenzionalità di generare un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile, oltre a un rendimento finanziario. In questa definizione troviamo tutti gli elementi importanti per capire quando un investimento si può caratterizzare come è impatto sociale. C'è l'intenzionalità ex ante, quindi ad essere dichiarata subito di generare questo impatto. C'è la misurabilità, è un elemento importantissimo, bisogna definire una metodologia di misurazione delle metriche. Il terzo elemento è quello del rendimento finanziario, quindi non è filantropia, non è beneficenza, sono veri e propri investimenti. Negli ultimi anni hanno avuto un'accelerazione molto importante e oggi di fatto sono alla pari con gli investimenti tradizionali, quindi possono assolutamente raggiungere rendimenti in mercato. E il quarto elemento che molte volte si tende a dimenticare, ma per noi è essenziale, è l'addizionalità, e cioè l'impatto che viene generato non sarebbe altrimenti possibile. Quindi gli investimenti e impatto sociali sono innovativi, aggiungono qualcosa. Senti, avete lanciato un fondo di fondi, giusto? È corretto? Sì, corretto. Abbiamo lanciato a febbraio di quest'anno un fondo di fondi, è un fondo di impatto sociale nel private equity, è riservato a investitori professionali ed si qualifica come un articolo 9 con riferimento all'SFDR, che è la nuova regolamentazione dell'Unione Europea per gli investimenti sostenibili. E qual è la capienza del fondo? Che obiettivo avete di raccolta? Sì, l'obiettivo è piuttosto ambizioso, abbiamo un obiettivo di 200 milioni che, diciamo, per un segmento come quello dell'impatto sociale è ambizioso perché il mercato è un mercato nascente, nuovo. Il nostro focus di investimento è l'Europa, quindi la nostra ambizione è quella di creare un network di investitori e di investimenti a livello europeo e per promuovere questo tipo di, diciamo, di investimenti e impatto sociale. A che punto siete della raccolta e quali sono i vostri interlocutori come investitori? Dunque, noi abbiamo fatto un primo closing a luglio, a fine luglio, quindi siamo, diciamo, in fase iniziale. Abbiamo, diciamo, degli investitori istituzionali come Anchor Investors, si tratta di casse previdenziali, di fondi pensioni, di banche. Questi sono poi i nostri interlocutori privilegiati. Ovviamente vogliamo ampliare la nostra, i nostri gambe di interlocutori a livello europeo e di includere anche assicurazioni e altri istituzionali. E poi andrete a investire o avete stato già investendo? Stiamo già investendo. Abbiamo già iniziato, abbiamo già completato tre investimenti. Si tratta di investimenti, come dicevo prima, in fondi e in patto sociale, quindi private equity europei. Abbiamo già iniziato con quello che noi riteniamo essere la realtà più interessante nell'ambito del Portogallo e della Spagna. Un secondo investimento è stato fatto nell'area francese tedesca e stiamo completando un investimento su un fondo in patto sociale in Inghilterra che è di fatto stato il pioniere, diciamo, in questo universo di investimenti. Senti, ti faccio un'ultima domanda sul contesto nel quale vi state inserendo, perché sicuramente il Next Generation EU e poi la declinazione italiana del PNRR danno molta più attenzione, un'accelerazione a tutte le tematiche sociali, quindi anche ai fondi di investimento si muovono in questa direzione. Che cosa prevedi a livello di mercato, di industrie e quale tipo di risconto state ottenendo dagli investitori? Dunque, considera che la nostra iniziativa è partita prima della pandemia, quindi noi abbiamo pensato al prodotto, abbiamo cominciato a lavorare a questo tipo di iniziativa prima della pandemia e, come dicevo prima, il mercato dell'impatto investimento è relativamente recente, le prime esperienze datano attorno al 2000 in Inghilterra. Ovviamente tutto quello che noi avevamo visto prima della pandemia, con i due anni che abbiamo appena vissuto, in qualche modo è esploso, quindi è aumentata anche la consapevolezza da parte degli investitori, del pubblico in generale, ma dei regolatori e dei governi di dover fare qualche cosa, diciamo, nell'immediato. Quindi tutte le iniziative del Recovery Plan Next Generation EU sono proprio coerenti con tutto l'impianto che sta alla base dell'impatto investing, quindi l'idea di trovare delle soluzioni sostenibili, non solo per l'ambiente ma anche per la parte sociale, perché appunto nella pandemia siamo resi conto che queste esigenze sono impellenti, ha aiutato, ha accelerato tutto il processo. Quindi oggi accanto alle iniziative private che noi e molti altri in Europa hanno portato avanti fino al 2019, si aggiunge questa importante spinta da parte dell'Europa, non soltanto dal punto di vista delle risorse, che sono ovviamente importantissime, ma anche e soprattutto della regolamentazione. Grazie mille a Manuela Cedamas, Senior Portfolio Manager ESG Impact del gruppo Invescorp Tagios, per essere stato ospede di Flower. Grazie Manuela. Grazie. E arrivederci a tutti.